Compagni e compagni, pensate se oggi ci fosse uno di voi al potere come Presidente del Consiglio, se Gramsci fosse Presidente del Consiglio per esempio, forse non tutti conoscono Gramsci, Gramsci che è nato in una famiglia poverissima, a due anni viene colpito da tubercolosi ossea alla colonna vertebrale, una malattia che lo lascerà alto un metro e mezzo per tutta la vita, un metro e mezzo era Gramsci, era un gigante, Gramsci che a dieci anni lavorava dieci ore al giorno per un chilo di pane, Gramsci che ottene una borsa di studio per andare a studiare a Torino in condizioni ancora più miserevoli, dove d'inverno durante la notte studiava camminando per non congelarsi i piedi, Gramsci che fondò il grande partito comunista, Gramsci che fece un solo discorso in Parlamento e poi venne arrestato dai fascisti che lo tennero in galera per dieci anni, anni durante i quali cambiò il pensiero socialista, Gramsci che uscì di galera cinque giorni prima di morire eppure è il Gramsci che ci ricorda oggi ancora a distanza di un secolo di tanto tempo che al pessimismo della ragione dobbiamo opporre l'ottimismo della volontà, pensare se Gramsci fosse oggi il Presidente del Consiglio farebbe tutt'altro governo, Gramsci chiamerebbe un poeta e ne farebbe il Ministro della Cultura, non un burocrate, un barone universitario, ma un poeta Ministro della Cultura, Gramsci farebbe così, Gramsci chiamerebbe un contadino, contadino umiliato, uno che quando vada al mediatore a vendere le carote gli dice che mi deve dare almeno 7 centesimi al chilo e il mediatore lo umilia perché gli ne dà 4-5 al massimo per vendere le medesime carote a 10-20-30 volte di più al supermercato, Gramsci chiamerebbe quel contadino e ne farebbe il Ministro dell'Agricoltura, Gramsci chiamerebbe la sorella di Stefano Cucchi, la madre di Federico Aldrovandi o comunque un parente di una persona che scendo di casa è morta dopo aver incontrato una guardia indivisa, Gramsci chiamerebbe la signora Patrizia Moretti Aldrovandi e ne farebbe il Ministro della Giustizia, una persona che può parlare di giustizia perché ha conosciuto l'ingiustizia, Gramsci farebbe così, io penso cari compagni, cari compagni che in questo strano sfortunato paese anche se soltanto un bagnino diventasse il Ministro del Turismo già sarebbe un paese migliore. Era Ascanio Celestini con i discorsi dalla nazione, Ascanio Celestini uno dei più originali ed innovativi artisti del panorama teatrale italiano, oggi ospite a fattocotidiano.it Ciao Ascanio, grazie per aver accettato il nostro invito, fa piacere, vengo volentieri, grazie adesso tu hai anche un blog su Fatto Quotidiano, ho anche un blog su Fatto Quotidiano, dopo ne parliamo. Bene, Fatto Quotidiano oggi ti vuole dedicare un ritratto, cominciamo subito, sei pronto? Eh, sono pronto. Allora tu parli di discorsi alla nazione come di uno spettacolo in studio, io ho visto questo spettacolo bellissimo che definisco uno dei tuoi spettacoli più orwelliani, tu parli di un paese in cui piove continuamente, senza soluzione di continuità. Un paese nel quale c'è anche una guerra civile, però i cittadini non se ne rendono più conto di questa guerra civile perché ormai diventare una condizione normale, naturale, e quindi non ci fanno più caso. Mentre invece alla pioggia sì, fanno attenzione perché come dice insomma il personaggio che apre in qualche maniera questi discorsi, in una guerra anche quando muoiono tante persone non muoiono mai tutti, mentre invece quando piove tutti si bagnano. Per cui anche per una questione diciamo di democrazia della maggioranza, la pioggia interessa a tutti mentre insomma la guerra e quindi la morte, questa guerra civile non interessa a tutti quanti e poi e soprattutto no alla maggioranza delle persone. La pioggia è democratica? La pioggia è democratica, o meglio l'attenzione, è più democratico far attenzione e parlare della pioggia che non della guerra insomma, ma questo diciamo anche se è disumano è uno dei grandi limiti della democrazia così come lo intendiamo noi, come l'abbiamo intesa nell'Ottocento e nel Novecento. Oh, ma non c'è quindi secondo te un Gramsci all'orizzonte? Non c'è un Gramsci all'orizzonte, ma il personaggio che fa questo, questo era un frammento insomma del monologo finale, che è tutto un monologo il mio spettacolo perché sto da solo, per cui già questo non è che c'è un monologo. Tu fai solo monologo nei tuoi spettacoli praticamente? Praticamente sì, diciamo che lavoro da solo. Il personaggio che arriva alla fine in questo paese dove appunto piove sempre e dove c'è questa guerra civile è il dittatore, il tiranno che tutti aspettano, il tiranno che pone fine alla guerra civile e smette anche di piovere peraltro, l'uomo della provvidenza pone fine alla guerra civile e ripristina la tirannia, la dittatura. E anche quando parla di Gramsci ai compagni, dicendogli io vi chiamerò campagni e compagni anche se sono parole che voi non utilizzate più, però per me voi sottomessi, voi disgraziati, voi poverazzi, siete quei proletari di tutto il mondo che dovevano unirsi per spezzare le proprie catene, io non sono un compagno, sono un padrone. Quindi è il padrone che parla, è il tiranno che parla al popolo e quando fa tutta questa tiratera su Gramsci che dura di più, non so perché poi dice noi metteremmo uno straniero, un immigrato come ministro degli esteri, un pacifista come ministro della difesa, in realtà è un discorso populista, Gramsci non farebbe così. Si è famoso un discorso populista. Si, perché poi alla fine glielo dice pure ai cittadini, qualcuno forse avrà pensato se ha reso conto che ha fatto un discorso populista, a voi siete abituati che chiunque parli con voi parla in maniera populista, per cui se avessi parlato in maniera differente non mi avreste capito. Per cui è un tiranno che in qualche modo cerca di dire la verità al popolo, però è una verità terribile, quella che verso la fine a un certo punto lui dice, siete stati voi le classi subalterne che non avete fatto la rivoluzione, quella che avreste potuto fare con gli stranieri, con i veri sottoproletari, invece voi proletariato, ormai borghesizzato, avete chiesto aiuto alla borghesiera di combattere contro i sottoproletari, siete stati i primi a cacciarli via, a trattarli male e ancora deve comportare in questa maniera, voi che mandate l'SMS con l'euro per bambino povero, la cui casa è stata distrutta dallo tsunami e dieci minuti dopo stare al centro commerciale con il vostro figlio che ha la stessa età di quel bambino, a comprare un pallone di cuoio cucito da quel bambino che nel frattempo si è anche venduto a un rene e voi glielo comprate perché sapete perfettamente che un pallone cucito da un operario assunto a tempo indeterminato rimbalza ne più o ne meno di un pallone cucito da un bambino senza un rene, voi siete criminali, perché siete identici a noi. Tu definisci il tuo spettacolo o uno spettacolo in studio, perché? Perché in realtà io ho girato più tempo con lo studio proprio dello spettacolo, cioè con uno spettacolo ancora in costruzione, per tanti motivi, un po' perché mi interessava che questo spettacolo crescesse, insomma si scrivesse con gli spettatori veri e propri, perché io parlo di un paese ipotetico, metaforico, surreale e non credo sia differente se questa metafora si avvicina all'Italia piuttosto che alla Francia o al Giappone, non penso che ci sia una grande differenza, penso che più o meno tutti i paesi occidentali e purtroppo quasi tutti i paesi sono paesi occidentali perché c'è stata un'occidentalizzazione culturale che si è mangiata dal pianeta intero, in Ruanda nel 1994 ci sono stati un milione di morti in tre mesi, è uccisi a colpi dei macete e questa cosa, la lettura di questo genocidio è stata, vabbè è una guerra tra, capito, tra gruppi etnici, una cosa che non capiremmo mai, invece no, i macete li compravano dai cinesi perché costavano poco come le mutande al mercatino da noi e quella guerra c'è stata anche perché qualche anno prima il prezzo del caffè è crollato sul mercato mondiale e quindi questo paese che era già un paese piuttosto povero è diventato ancora più povero perché sono razzisti, perché lezioni di razzismo le sono state fatte da noi, dagli europei, per cui un po' tutto occidente. Tu ti sei sempre occupato di disagio, di disagio mentale, di disagio nella vita, vediamo ora un brano da Fabbrica del 2002, testo e DVD edito da Donzelli, rappresentato tra l'altro anche in Portogallo, in Svizzera e in Belgio perché tu sei rappresentato anche all'estero, vediamo una clip e poi ne parliamo. E mi ricordo tutto, i reparti T1, T2, T3, R4, R5, mi ricordo, e l'alti forni, come no, mi ricordo perfettamente il montaggio, l'assemblaggio, la verniciatura come era prima, con tutta quell'acqua per terra, poi con le cappe aspiratrici come l'hanno fatta dopo, si risperiava tutto quel veleno, mi ricordo la mensa che faceva schifo, nessuno ci andava a mangiare, mi ricordo l'edicolo da baccheria di rimpetta la fabbrica, il pozzo che stava dietro, mi ricordo perfino i forni al mercurio, pur tutti scassati che li ho visti una volta sola nella mia vita, quella prima volta che entrai a lavorare in fabbrica, mi ricordo ancora, caro madre, che stavamo là sotto con tutto quel buio, quei topi che ci camminavano a un centimetro, io pensavo ecco alla, i topi ci saltano addosso e ci divorano a tutti, in quel momento pensavo sta cosa, ma poi negli anni, sarà che poi sono invecchiato, mi è venuto da pensare tutta un'altra cosa, ho pensato, guarda un po', che i topi ci saltavano addosso, ci divoravano a tutti e risparmiavano solo a me, beh, sarà che uno si rincogionisce, però sta cosa l'ho pensata, per dire no, e mica lo so se è peggio essere uno che more insieme a tanti altri o essere l'unico che si salva, il superstite di una catastrofe, il sopravvissuto di un'apocalisse, così, cara madre, ho scritto una lettera al giorno per tanti anni, per più di 50 anni, voi sempre mi dicevate, scrivi, 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 io sempre ho scritto una lettera al giorno per tanti anni, solo una volta non ho scritto che di fatti voi mi diceste, come mai che non hai scritto, eh, di tante lettere che mi hai scritto, perché questa non me l'hai scritta? Chi è? Mi disse che non potevo, per via della disgrazia, stavo all'ospedale con la disgrazia, non potevo stare lì a perdere tempo con le parole scritte, che però voi mi diceste, prima o poi me la scriverai sta lettera, mica che mu adesso mi lasci senza una lettera, nel mentre che tanto ho mai scritto tutta sta collezione di lettere, che io vi dissi che sì, che però avrei scritta sta lettera, ma non subito, che per scrivere, cara madre, certe cose uno o subito le scrive o io ci vorrei una vita intera per trovare le parole giuste per dire, e adesso, cara madre, sta lettera ve l'ho scritta, ma però fate conto che è l'ultima, anche perché quando uno ci mette tanti anni per trovare le parole, una volta che le trova e le scrive, poi dopo gli pare che non c'ha più niente di buono da dire, no? Come ci avrebbero altri 50 anni per scrivere un'altra lettera come questa? Ma mi penso che né io né voi ci figuriamo di campare tanto. Così vi chiedo per quanto possibile, in finale di questa lettera, di salutare molto affettosamente il babbo e tutti quanti che vi dimanda di me. Ecco, questa era una clip presa appunto dal tuo spettacolo storico Fabrica. Queste scene, non tutti lo sanno, che te le costruisci da te nella bottega che era di tuo padre e poi te le vai a montare da te nei teatri che giri in Italia. Perché noi quando siamo in tournée, normalmente giriamo in due, io e Andrea Pesce che è il fonico, tecnico con cui lavoro da tanti anni, per cui giriamo in due, abbiamo il furgone, a volte in tre se c'è un musicista, in quattro c'è stato un periodo che facciamo addirittura un concerto, eravamo in sette, però è difficile girare in sette in Italia. Ognuno che ha gusti diversi, che vuole il cappuccino. Magari, forse questo è un problema proprio economico, non è facile. Però appunto, problema economico. E poi montiamo e smontiamo le scene. Si può fare teatro quindi con delle scene tutto sommato povere come queste? Assolutamente, ma quelle scenografie di questo spettacolo sono neanche povere, ho comprato solo la rete dei conigli da attaccare su queste bacchette di legno, su queste cantinelle tagliate. Ma perché le costruisci proprio te? Ma perché io penso che lo spettacolo, lo spettacolo è una cosa sola, nel senso non è la scenografia, la coreografia, il suono, non è tante cose diverse affiancate una all'altra, perché quindi si capisce che la mia giacca carina è quella dello spettacolo. E quindi fare uno spettacolo significa farlo fisicamente. Montarlo, scendere, quindi tu arrivi stanco, magari però ti monti la scenografia? Sì, adesso siamo tornati da Liguria, abbiamo smontato, abbiamo caricato il furgone e siamo partiti. Quando la prossima replica si smonta il materiale, si tira giù dal furgone e si rimonta sul palco. Tu ti sei occupato molto del problema del lavoro. C'è una frase che tu dici nel tuo spettacolo, dici che la lotta di classe è una sana alternativa alla guerra civile. Sì, ma in realtà poi è una cosa che dico io, ma è una cosa che diceva anche Pasolini, in quel famoso testo stracitato, male come al solito, insomma, che era il PC ai giovani, quello che viene diciamo ricordato come il testo nel quale Pasolini diceva ieri quando si è picchiati con le guardie a Valle Giulia, io stavo con le guardie. Ovviamente non dice questo Pasolini, dice loro avevano ragione nonostante fossero dalla parte del torto, nel senso, o meglio stavano dalla parte della ragione nonostante avessero torto perché erano i figli dei poveri, del proletariato, voi figli della borghesia, avevate ragione ma state appunto voi dalla parte del torto, nonostante aveste ragione, perché siete figli della borghesia e alla fine lui dice ma non sarà che finirò per fare con voi la guerra civile e dovrò abbandonare la mia amata rivoluzione. Lui appunto il titolo è il PC ai giovani perché dice la rivoluzione si fa con partito, andate lì e riprendetevelo. Oggi è un po' complicato prendersi un partito insomma, svuotarlo dai suoi contenuti diciamo ottocenteschi, novecenteschi. Tu hai iniziato se non sbaglio, sei occupato parecchio di Pasolini, mi domando se tu ti senti più vicino un figlio di Pasolini o di Dario Fo? Insomma diciamo non mi sento figlio di qualcuno e penso che poi le esperienze soprattutto diciamo esperienze importanti siano esperienze personali che difficilmente sono riproducibili. Certo è che rispetto al lavoro che ha fatto Pasolini io vedo lì una cosa molto moderna che è questa idea della scrittura partecipata nel senso non scrivo della vita delle persone ma partecipo, faccio parte della loro vita come prima cosa. Quindi quando lui parla del proletariato è perché tutto sommato viene da lì lui personalmente ma soprattutto ha vissuto in condizioni da poter poi raccontare la propria storia. Questo è molto moderno perché io credo in una scrittura biografica e penso che la scrittura importante è quella che passa attraverso la propria biografia. Poi non significa che dobbiamo vivere tutte le esperienze ma se parliamo di qualcosa è perché è passata anche attraverso la nostra esperienza. Tu hai collaborato anche molto in televisione, in radio hai lavorato con Serena Dandini dal 2006. Adesso vediamo un brano molto divertente da Un Paese senza bandiere, Parla con me, in cui ci fai il ritratto di un uomo di sinistra con il pedigree. In 150 anni l'Italia è stata prima un regime monarchico, poi un regime fascista, poi un regime democristiano e adesso un regime berlusconiano. Secondo taluni osservatori questa egemonia della destra non dipende tanto dal consenso che la destra ha quanto dal fatto che la sinistra non riesce ad esprimere un vero e forte dissenso. Qualcuno addirittura dice che la gente si dice di sinistra però alla fine si è trovato d'accordo pure con Berlusconi, come si è trovato d'accordo con Andreotti, con Mussolini e addirittura cosa voglia. Io non sono d'accordo perché io sono di sinistra, però penso che pure uno che è di sinistra deve essere pure aperto agli altri, arrivò pure a certi piccoli compromessi per vivere insieme nella comunità. Io sono di sinistra, io conosco la Costituzione, lo so che a sua Costituzione c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra, non c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra però in Libia, a marzo si può pure fare, no c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra. Io sono di sinistra, però se poi tutto il mondo va contro Gheddafi, pure noi dobbiamo andare contro Gheddafi. Anche ai tempi di D'Alema siamo andati in Serbia, pure Prodi era d'accordo per costruire la base militare americana, quella di Vicenza, bisogna essere realisti, e poi peraltro ti dico che io sono di sinistra, però per esempio prima che ci fosse la guerra contro Gheddafi io ero d'accordo con l'accordo che era stato fatto con Gheddafi, con il compromesso, perché? Perché io sono di sinistra, però Gheddafi c'ha il gas, a noi il gas ci serve, io sono di sinistra ma se ho due uova mi voglio fare una frittata, mi serve il gas, non è che posso dire no, non uso il gas di Gheddafi perché sono di sinistra, me le faccio sbattute come faceva la mia nonna, sono di sinistra ma a me piace la frittata, che poi peraltro c'è da dire che io sono di sinistra, però oggettivamente Gheddafi un po' d'estafricani ce l'ha fermato, ha evitato l'invasione proprio, che poi qualcuno riga pure che l'ha fatto in maniera violenta, ma questo chi se ne frega, questo è un problema suo, perché io sono di sinistra, però se vado a dar meccanico, gli chiedo di ripararmi la macchina, non è che mi arrabbio perché quello c'è un laito pesante, dice hai parolacce, una persona volgare, quello è un problema suo se è volgare, a me l'importante è che mi cammina la macchina, io peraltro sono di sinistra, però, 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 io sono di sinistra, però, però ti voglio dire che ora vedrai quanti africani arriveranno in Italia, senza Gheddafi, non solo, africani e africane che fanno quel mestiere lì delle prostitute in mezzo alla strada che io quando torno da Casilina che devo arrivare sulla Tuscolana faccio via per mio Togliatti, con mio figlio, capito, seduto lì, il piccoletto che si vede tutti sti culi africani dai fori, capito, che non è un bel vedere, che poi qualcuno mi dice, vabbè, magari è tuo figlio se scarica i film i suzzi, dico, vabbè, ma quello è un fatto suo, capito, personale, invece sono io che guida la macchina, capito, davanti a tutte queste africane, che poi guarda, io sono di sinistra, sono di sinistra, però quelli di sinistra che, capito, dicono tanto male dell'escort, ma allora meglio l'escort, anche perché l'escort, voglio dire, è il culo dove fa vedere solamente se paghi, no, sua via per mio Togliatti, capito, e poi l'escort sono anche persone carine, presentabili, che se vai a cena fuori con Presidente Renato Stato straniero, cioè, si fa pure bella figura, capito? Guarda, io sono di sinistra, eh, di sinistra, però, sinceramente, io non ci credo a sto fatto che quella poteva essere a nipote di Mubarak, questa è proprio una panzana, però voglio dire, ma il problema qual è? Che quella aveva 17 anni? Cioè, e il numero delle canderine sulla torta? Il problema è quello? Se ce ne aveva 18, non c'era il problema? Perché poi guarda, io ti dico, io sono di sinistra, eh, però lo stesso Indro Montanelli, il grande giornalista, che peraltro è da destra e che peraltro era pure contro Bellosconi, Montanelli l'ha detto e quando stava a tempo del fascismo in Africa si è comprata una femmina, capito? Se l'hai comprata per tipo 500 lire gli hanno avuto pure in cammello, tu birre, no? Cioè, quella c'era a 12 anni, si è comprata una femmina di 12 anni, capito? Perché poi gli hanno detto, ma tu sei pedofilo, lui ha detto, ma no, guarda, gli africani sono stati così, a 12 anni già sono donne, capito? Figure di quella lì, rubi, c'era a 17, quella sta parlando meno pausa, è già arrivata, capito? Cioè, voglio dire, guarda, io sono di sinistra, però voglio dire, quello è infatto terazza, africani sono stati così, pure il micugino, c'ha un coger, no? Cioè, quella ha due anni, e il coger l'ha fatto accoppià, mo che dico, micugino è pedofilo perché quello c'era solo due anni? Che voglio dire, quello è un cane, capito? Cioè, che poi va bene, l'ha fatto accoppià con un coger, con un altro coger, non è che l'ha fatto accoppià con uno dei 70 anni, però per dire, ma tanto di cappello che ha 70 anni e quella gliela fai, capito? Infatti, guarda, io sono di sinistra, però guarda quanto vorrei votare per uno che, capito, ha veramente le palle, capito? Non questi qua, capito, di sinistra, perché guarda, io sono di sinistra, però se uno è di destra, io lo rispetto se è uno in gamba, capito? Perché guarda, io sono di sinistra, però per esempio, guarda, Andreotti ci avrà avuto pure i processi per mafia, guarda, ma oh, ma però era una persona elegante, con quell'ironia di Andreotti, io sono di sinistra, però Mussolini ha fatto tante cose sbagliate, però tante cose anche giuste, capito? O diceva pure mia nonna, che infatti mia nonna era di sinistra, proprio come me, noi siamo di sinistra, capito? Ma noi prima eravamo comunisti, siamo diventati capitalisti, prima eravamo libertari, siamo diventati liberisti, capito? Prima eravamo internazionalisti, ora se voglio diventare patriottici, che ha la bandiera di colore, dico, ma che altro dobbiamo fare? E se qualcuno mi viene a dire che in questa maniera abbiamo perso tutti i nostri valori e di fatto siamo diventati di destra, beh, a me non interessa, perché io sono di sinistra, però me ne frego! Ecco, il brano che abbiamo appena visto era tratto da un paese senza bandiere. Ascanio, tu più avanti, perché io l'ho visto questo monologo in teatro, tu dici, dice l'uomo di sinistra doc, ma ce l'avessimo noi un Berlusconi? È questo il problema della sinistra, che non hanno un Berlusconi? Ma diciamo che purtroppo la situazione adesso, senza doverne fare un problema politico, più teatrale, letterario, purtroppo c'è un pensiero che è quello dominante, che poi ci si divide a destra, a sinistra, uno può avere quel partito per l'altro, in Italia rassomiglia molto alla fede calcistica, io sto con lui contro il livello, io spero, oppure no, io sentivo un laziale qualche giorno fa, diceva, ma sta Roma, non è il problema che Lazio perde, il problema è che la Roma vince, per cui c'è questa cultura proprio da tifoso. Oggi che la politica, intesa appunto come fondata sulla rappresentanza, è esplosa, non funziona più, ormai diventa veramente un po' come alzare la bandiera, sventolarla per la propria squadra dei calci, non c'è oggi una vera differenza. Chi fa politica oggi non la fa nei partiti, non la fa nei partiti, anche quando non li chiama partiti li chiama in altre maniere, insomma. E dove la fa? La fa nei territori se fa la politica, nel senso lì fai realmente politica, perché la fai direttamente, e non penso semplicemente al piccolo comune dove il sindaco è il tuo vicino di casa, no, no, ma anche in posti più vasti, il caso della Valsusa è unico per dimensioni, ma insomma è pieno, io torno adesso da Genova, ho incontrato i notab del terzo valico, quindi quello che dovrebbero fare Genova a Tortona, e beh lì insomma fare politica significa anche incontrarsi, ragionare su quello e su tanti altri problemi, quelli del movimento non dal Molin da Vicenza, poi sono gli stessi che hanno fatto la raccolta di firme, referendum, per l'acqua, per l'acqua, per l'acqua, per l'acqua, per l'acqua. Vedo, ossia noi si chiamano i partiti, associazioni, club, movimenti, gruppi di studio, però è quel vincolo di rappresentanza che oggi è rimasto in piedi solamente come delega, cioè fai e poi casomai io mi arrabbio. Certo, passiamo adesso ad un'altra tua attività, quella cinematografica, nel 2011 partecipi al Festival del Cinema di Venezia con Pecora. 2010 però, forse i premi li ha vinti nel 2011, vabbè, comunque, passami la cosa, Pecora nera, vediamo una clip. Poi il carabiniero in divisa mi ha portato all'istituto dei matti, eppure lì erano finiti gli anni 60, e così la suora mi ha messo a letto, ma però io la mattina dopo mi ero pisciato sotto, vabbè, la suora mi ha detto che siamo bambini piccoli piccoli, ricazzini che stiamo pisciando a letto, che cos'è un albergo, il grand hotel che tutti i giorni cambiamo le lenzola, non ci dobbiamo più pisciare, mi ha detto, io mi vergognavo di sto fatto dalla piscia, guarda, però poi la notte presto mi sono ripisciato, che devi fare? La suora mi ha detto che siamo femmine, che ci pisciamo addosso, smettiamo di pisciare nel letto per favore, mi ha detto, se no gli faccio un nodino a sto pisellino, io avevo una vergogna di sto fatto dalla piscia, ma poi la terza notte mi sono ripisciato, la suora allora non mi ha detto più niente, mi ha preso e mi ha portato nella stanza del medico, ha chiuso la porta, mi ha messo sul lettino, mi ha spogliato, io ho pensato, oddio la suora mi lecca, ho pensato, ho pensato, poi invece le infermiere mi tenevano le gambe, le braccia, la suora mi ha bagnato le tempie con acqua e sale, credo, poi mi ha messo gli elettrodi e il dottore, il medico ha detto pronto, la suora ha detto pronto, poi quando mi sono risvegliato stavo nel letto, c'era la suora vicino e mi ha detto, mi ha detto i bambini sono malati, la malattia dei bambini è la paura, infatti i bambini hanno paura di tutto, hanno paura dei mostri, hanno paura dei lupi, hanno paura dei ragni, allora l'istituto che ha un manicomio elettrico gli accende la luce e quando si accende la luce scompaiono i mostri, scappano i lupi e perfino i ragni diventano stupide bestie da schiacciare su un muro, perché la malattia dei bambini, mi ha detto la suora, la malattia dei bambini è la paura del buio, perché il buio gli fa paura e si può morire per la paura del buio. Fino a che sono stato chiamato da un medico del reparto, il quale mi ha fatto alcune domande alla presenza della suora e poi ha scritto sulla lavagna, si è avvicinato ad una lavagna dove già c'erano scritti diversi nomi, ha aggiunto anche il nome mio e io ho capito che quello era l'elenco dei pazienti che dovevano essere sottoposti a elettroshock e terapia. Ecco, il brano che abbiamo appena visto era tratto da Pecora Nera, uno spettacolo teatrale che poi è diventato anche un film per la regia di Ascanio Celestini. Tu mi dicevi che Alberto ti ha raccontato questa storia. La voce registrata è Alberto Paolini che è entrato, è stato portato in manicomio a 15 anni nel 1948 e ci è rimasto per 42 anni. E non perché avesse problemi di disagio, e non perché oggi noi pensiamo che lui non aveva problemi di disagio, ma perché i medici stessi hanno detto sì, vabbè, però è un bambino orfano, mettiamolo qui. Così si faceva? Sì, sì, uno però finì dentro per un'infinità di motivi e poi stando lì ha fatto la carriera da matto e quindi psicofarmaci, elettroshock e nonostante tutto adesso è una persona anziana che però sta in salute, lucida, nonostante 42 anni nel manicomio. Tu ti sei occupato dei manicomi e ti sei occupato delle carceri, che cosa hanno in comune? Che hanno in comune? Sono due istituzioni molto simili, nel senso che quando Franco Basaglia nell'istituzione gata parla del manicomio, per parlare del manicomio parla prima di una serie, fa un elenco delle istituzioni in qualche maniera simili, la caserma, il campo di concentramento, noi potremmo aggiungere pure la scuola in un certo senso, purtroppo, poi ci stanno insegnanti straordinari, però entrando in una classe di notte, non di giorno, quando vedi le relazioni tra gli esseri umani, ma di notte, dalla posizione della cattedra rispetto ai banchi, già capisci a chi l'istituzione ha dato il potere e a chi non l'ha dato. Ed è questa appunto la similitudine che fa per appunto Franco Basaglia, sono tutte istituzioni dove è chiaro chi ha il potere e chi non ce l'ha. Io sarei qui tutto il giorno a parlare con te, tra l'altro tu hai una carriera alle spalle che sei giovanissima, hai 41 anni, no? 41, quasi 42 a giugno. Ecco, allora ti devo fare però due domande stupide alla fine, ci bisogna un po'. La prima è cosa vuoi fare da grande a questo punto, visto che hai scritto almeno una decina di libri, hai prodotto una quantità incredibile di spettacoli e la seconda è questa, perché cosa saresti disposto a tagliarti questo pizzetto che ti tocchi continuamente? Ma perché, allora, da grande, vorrei andare in pensione, per esempio, tutti quelli della mia generazione, anche quelli più giovani, sperano che potrebbero un giorno andare in pensione, invece non ci andremo. Da grande, da vecchio, insomma, però è andare in pensione, fa proprio il pensionato quello che cura le rose, che accompagna i nipoti a scuola, che coltiva i pomodori, queste cose belle, insomma, da pensionare, avevi tanto tempo per leggere. Scola, Ettore Scola, una volta gli hanno fatto una domanda, diceva ma maestro perché non fa più film e così, e lui gli ha risposto perché ho scoperto che Dostoievski ha scritto tantissimo, ecco, allora io vorrei passare del tempo leggendo Dostoievski, non solo, insomma, è appunto anche coltivando le rose e i pomodori. Il pizzetto, il pizzetto, insomma, più gli anni che ce l'ho, che non gli anni che non ce l'ho avuto, insomma, però con i primi peli ho cominciato a avere un po' di barba e quindi ho iniziato ad avere questo pizzetto, ormai anche antistress, ma non lo taglierei per nessun motivo che non fosse un motivo serio, è chiaro, se uno dice per la salute dei figli, perché c'è un figlio allergico alla barba, sì, mi taglierei tutti i peli e tutti i capelli, però diciamo per un motivo serio, è nello stesso film che ho fatto, in Pegora Nera, poi lì ero sceneggiatore, regista, attore, per cui c'avevo un margine, insomma, delle possibilità di decidere più alto di altri, io pur di non tagliare il pizzetto, anche se... Hai fatto una treccia? No, ho fatto crescere la barba attore, non ho tagliato il pizzetto, ma l'ho nascosto dentro la barba. Va bene, allora, Scagno, ti ringrazio moltissimo, ti facciamo tanti auguri e ti riaspettiamo qui a fattocotidiano.it. Volentieri. Grazie. Grazie a voi.